A Lui canziamo con infinitore, al grande e bella terra. Veni accambiamo al Signore, alleluia, alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Veni accambiamo al Signore, alleluia. Veni accambiamo al Signore, alleluia. Veni accambiamo al Signore, alleluia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdone i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei Cieli e pace di terra agli uomini in buona volontà. Noi ti odiamo, ti verificiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rivediamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, alleluia. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore Figlio Unicentico, Gesù Cristo. Signore Dio, Agnielo Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, ami piedà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, ami piedà di noi. Perché tu sono il Santo, tu sono il Signore, tu sono l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amo. Preghiamo. O Dio che nei sacramenti pasquani hai dato al Tua popolo la salvezza e ponde su di noi l'abbondanza dei credoni, perché raggiungiamo il vede della perfetta libertà che abbiamo in cielo per la gioia che ora regostiamo sulla terra. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che viva e regna con te nell'unità nello Spirito Santo per tutti i secoli e i secoli. Amo. Dall'arte degli apostoli. Dall'arte degli apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro diceva ai giudici, Sapte lunghe con certezza, tutta la casa di Israele, che Dio ha costituito il Signore Cristo, quel Gesù che voglio e che precivissi. A udire queste cose si sentivano trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli. Che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro, convertitevi che ciascuno di voi si faccia partezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa e per i nostri figli e per tutti quelli che sono volontari, quanti vi chiederà il Signore Dio nostro. Con molti altri valori vedeva testimonianze di soltanto. Salvatevi da questa generazione perversa. Allora, coloro che affossero la sua parola, furono battezzati e quell'uomo fu una giudicina premia persone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Renta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il divino. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Egli ama la giustizia e il divino. Egli ama la giustizia e il divino. Egli ama la giustizia e il divino. L'amore del Signore è piena la terra. Egli ama la giustizia e il divino. aiuto e il nostro studio, su di noi sia il suo amore, Signore, come dal tempo misteriano. L'amore del Signore viene a terra. Alleluia. 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 Questo è il gioco fatto al Signore. Alleluia. 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 Il Signore sia tu e corre il tuo spirito all'angelo e il secondo Giovanni. Gloria al Signore. In quel tempo Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva sentino verso il sepolcro e vide due angeli, i bianchi vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero. Donna, perché piange? Rispose loro. Hanno portato via il mio Signore e non solo dell'anno nostro. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù. Donna, perché piange? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prendere. Gesù le disse, Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico, Rapuni, che significa maestro. Gesù le disse, non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro, saluto al Padre mio e al Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Mandala andò ad annunciare ai discepoli, ho visto il Signore e ciò che è arrivato. Palomati del Signore. Glorie a lei e al Cristo. Il Signore Gesù ci rivela alla mattarella che annuncente, mentre lo cerca appassionatamente. Lasciateci anche noi chiamare per nome da Lui il mio candolo con il titolo familiare di Rapuni, dicendomi. Signore Gesù, mio Maestro, ascolta la nostra preghiera. Signore Gesù, mio Maestro, ascolta la nostra preghiera. Per la Chiesa, perché la sua predicazione si è sempre fedele al messaggio apostolico, incentrato nella fede del Signore Procifisso risorto, preghiamo. Signore Gesù, mio Maestro, ascolta la nostra preghiera. Per quanti sono provati nella loro fede, perché non c'erano al dubbio e allo smanimento, ma cercano con insistenza la luce di Gesù Salvatore. Preghiamo. Signore Gesù, mio Maestro, ascolta la nostra preghiera. Per noi più presenti, perché accogliamo la parola annunciata e viviamo la nostra fede in comunione con coloro che sono stati già chiamati dalla grazia. Preghiamo. Signore Gesù, mio Maestro, ascolta la nostra preghiera. Tu che sei giudice delle linee e dei morti, accogli nel colegno i nostri fratelli defunti di Dina e Pasquale. Preghiamo. Signore Gesù, mio Maestro, ascolta la nostra preghiera. Va che ogni giorno, Signore, ci lasciamo chiamare per il nome da Te, come chiamassi Maria Magdalena, perché ti possiamo testimoniare come Dio nella vita che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Bene. 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 Signore, Dio dell'inverso, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane colte della terra e dell'amore dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto di secoli, Signore. Benedetto di secoli, Signore. Benedetto di secoli, Signore. Ti sia della vita del nostro sacrificio che oggi ci conto di inanzi a te. L'amore di secoli. Pregate per te le serebbe che il vostro e vostro sacrificio sia gratuito a Dio, Padre Onipotente. Il Signore che serva le tue mani in questo sacrificio all'ode e gloria allo suo nome per il bene nostro e tutta la sua santa chiesa. Accogli, Padre misericordioso, l'offerta di questa tua famiglia perché con la tua protezione custodisce i doni pasquali e giunga alla felicità eterna. Per Cristo, nostro Signore. Amén. Il Signore che ha con voi e con il tuo spirito in alto i nostri cuori sono rivolte al Signore. Pregniamo grazie al Signore nostro Dio e cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta è il nostro dovere, ponte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltati in questo giorno nel quale Cristo, nostro Pasqua, si è imbolato. È Lui il vero Agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morenda ha distrutto la morte e risorgendo ha arrivato a noi la vita. Per questo mistero, nella premezza e della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con il nome degli Angeli e dei Santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore più e più diverso, i cieli e la terra sono pieni nella tua gloria. O Stanna nell'alto dei cieli, benedetto per noi che viene nel nome del Signore. O Stanna nell'alto dei cieli. Padre veramente Santo, forte di ogni santità, santifica queste nuove con le fusioni del tuo Spirito perché diventano per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offremmosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. dopo la cena, allo stesso modo, prese il carice e le rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e lisse, prendete e bevete di tutti, questo è il carice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versata per voi e per tutti di remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. mistero della fete annunciato dalla morte del Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua vita. Celebrante il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo Padre, il pane della vita e il carice della salvezza e che rendiamo grazie per averci ammessa la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo in mente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci rivisca in un solo corpo. Ricordati Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendi la perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati nei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua plemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbia misericordia donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio San Giuseppe suo Sposo con gli Apostoli San Domenico San Nicola e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo con Cristo e in Cristo a te Dio Padre onnipotente nell'Italia di Spirito Santo voglio l'onore e gloria per tutti i secoli dei secoli amén guidati dalla Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo di Gianni Padre nostro che sei in cielo sia santificato il tuo nome venga nel tuo legno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro valio e quotidiano e rimetti a noi i nostri detti come noi rimettiamo ai nostri dettori e non ci inturre in tentazione ma liberaci dal male liberaci Signore da tutti i mali concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo Signore Gesù Cristo ti hai detto ai tuoi postoli mi lascia la pace e non la mia pace non guardare i nostri peccati ma la fede della tua chiesa che dono l'unità e pace secondo la tua volontà tu che viverei nei secoli dei secoli amè la pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito scambiate il segno di pace di pace di pace di pace di pace di pace Adios Dei, Vittorici, Segnata, Lutti, Miserere, Lutti. Adios Dei, Vittorici, Segnata, Lutti, Miserere, Lutti. Adios Dei, Vittorici, Segnata, Lutti, Lutti, Miserere, 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 Lutti, M Grazie a tutti. Amen. Cerca in te la guida, sulla strada verso il teo. Se il suo segno o il tuo cuore, resta sempre con tu, oh Signore. E il tuo pane, Gesù, che ci dà forza, e rende più sicuro il nostro passo. Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona vieta la speranza. Il tuo pane, Gesù, che ci dà forza, e rende più sicuro il tuo cuore. Resta sempre con noi, oh Signore. Il tuo pane, Gesù, che ci dà forza. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.